Vi siete raccontati, ci avete permesso di viverli pienamente, ma la luce di tutto quanto, se oggi io vi chiedessi, consigliereste a una coppia di sperimentare lo scambismo? Sì, ma un perizomino non te lo metti? Ecco, e se no io ho preso tre bottiglie di proserco per dare il vino, tanto alla fine siamo solo cinque coppie. C'è un po' la paura dello sconosciuto. La stragrande maggioranza di queste persone sono persone a posto, sono persone come noi fondamentalmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.